Amici della RCM, salve a tutti, eccoci un appuntamento con l'arte e con la musica e quest'oggi è proprio una persona di un certo calibro perché era da tanti anni che desideravo intervistarlo in quanto io sono venuto in possesso di uno dei suoi primi CD Il primo, 1989 Alla gente che ascolta Edito da Mario Pizzi, da Edo Esattamente E distribuito dalla Dischi Ricordi Dischi Ricordi, S.P.A Quindi questo è uscito anche in Dischi Ricordi che non è poco è timbrato a Edo e poi Dischi Ricordi e la S.P.A Signori, abbiamo qua in studio Gigi Acquas Ciao Gigi, mi ha fatto veramente un onore e un piacere la tua presenza qui Maestro è un piacere tutto mio Quando parlavi di grosso personaggio intendevi forse la stazza No, non la stazza ma di vetustà artistica Beh, vetustà artistica ormai siamo avviati Beh, guarda, io ho cominciato a fare musica da ragazzino perché io ricordo questo mio cugino poeta ulianese il mio babbo era ulianese che veniva a trovarci a casa si chiamava Michele Nikodimbovic e a dispetto del cognome Slavo era Era sardissimo Chissà da quale generazione è arrivata Comunque sia, lui era un chitarrista, era un poeta e anche un pittore e lui veniva a casa e metteva le mani su una chitarrina che io non sapevo suonare ma avevo nove anni e lui faceva parte di un gruppo di classici complessini, ti ricordi? Eh sì, eh sì Si chiamavano i Bardanas Bardanas, anche un bel nome E lui mi insegnò i primi accordi Mi ricordo questo re maggiore che suonava in una maniera splendida con la chitarra accordata Era musicale Da lì è partita la cosa e intorno a poi ai 14 anni, 14-15 anni ho cominciato a scrivere le prime canzoni quindi se da 67 ne togli, metti anche i 17 Eh sì, eh Sono 50 anni 50 anni di carriera Nozze d'argento con l'arte Yes Poi mia madre comprò un pianoforte per mia sorella Era un piano a muro, lo fece accordare E lì un giorno venne a trovarmi Felice Cassinelli Il maestro Cassinelli che allora era ancora studente di conservatorio Grande pianista Caspita Adesso faremo delle... poi ne parliamo Certo E fece un pezzo di Emerson Lake e Palmer Al pianoforte Mamma mia Io devo essere svenuto Devo essere svenuto perché era talmente bravo che ce l'ho ancora questo ricordo di Felice che suonava il mio pianoforte Io non sono mai riuscito a diventare un bravo strumentista né con la chitarra né con il pianoforte perché mi sono sempre dedicato a scrivere Certo Quindi mi accontentavo di quello che sapevo fare Anche perché tutto non si può fare Cioè è come io, ho fatto il fonico per tanti anni e toccavo un po' la batteria un po' la tastiera, un po' la chitarra ma non sono mai diventato uno strumentista Esatto Succede Succede Io ho tanti amici che poi come tanti sono diventati degli ottimi turnisti però ci si rivede sempre perché io ho bisogno di loro Certo Ho bisogno di loro Anche se io faccio delle stesure delle stesure un po' sporche un po' brutte con la tima stissola col cue bass poi comunque sia il chitarista non può mancare Certo Il bassista non può mancare Chiaramente Gigi ecco la tua carriera è scritta tantissimo è scritta veramente tanto ecco tocca tutta la Sardegna come tuo sentimento oppure hai batte il cuore per una regione in particolare per un posto particolare è una domanda questa passami il termine una domanda sporca ma nel senso perché è chiaro che a te ti piace tutta la Sardegna però hai il cuore presso qualche zona in particolare della Sardegna sapeva parlare il muorese a me non hanno mai insegnato niente quindi ho imparato a parlare discretamente bene l'italiano a scrivere discretamente bene l'italiano poi ma poi c'è un salto di anni molto grosso l'avrei vissuto in Brasile qualche anno mi ha portato anche a scrivere il portoghese ecco tant'è che sulla mia sulla mia sul mio canale YouTube trovi anche qualcosa in portoghese ecco amici dell'IRCM andiamo a visionare subito il canale YouTube del maestro Gigi Acquas non sono un maestro per carità io ti ringrazio però io ti do del maestro perché hai un'esperienza che puoi essere un maestro grazie lo dico non per fare false adulazioni ecco ma perché per me uno che ha battuto tanti anni sull'arte sulla musica alla tua età e con la tua esperienza è un maestro grazie molto gentile lo accetto grazie ecco Gigi come prosegue dopo l'esperienza brasilera beh dopo l'esperienza brasilera sono nati due tre album Marconi e Peter Pan che si trova su tutti i negozi virtuali poi Harry Harry dedicato al a un personaggio di un di un famoso scrittore americano ha un vuoto di memoria certo lasciamo perdere non è un problema fino a quest'ultimo eccolo qua a quest'ultimo a Telecamerelli che si chiama Itri 1911 che ha avuto non dico successo di vendite perché ormai i dischi tu lo sai che non si vendono non è stanno passando di moda ormai si scarica la musica è cambiato il sistema di produzione non è più il disco fisico non è più il disco neanche più adesso neanche l'acquisto del disco ognuno va se lo ascolta su spotify la stessa le stesse case automobilistiche tu lo sai no non producono più automobili con l'autorario esatto esatto quindi il CD a che serve si è un supporto che uno può tenere in casa ma poi alla fine devi scaricarlo su una chiavetta infatti e io a proposito di Itri manderei un servizio e poi magari lo commentiamo assieme ne mando un pezzettino chiaramente perché poi è un piccolo assaggio e poi tutti i nostri amici se lo guarderanno nel tuo canale eccolo qua ciao sono Luis Fragapane e sono l'arrangiatore del brano di Gigi Aquas Itri ciao sono Felice Cassinilli e ho avuto l'onore e il piacere di poter scrivere le parti corale di Itri ciao a tutti sono Carlo Asuni e ho cantato tutte le parti corali del brano Itri 1911 di Gigi Aquas ciao sono Luciano Fele ho avuto il piacere di collaborare con Gigi creando la copertina e i disegni per questa sua ultima fatica era e la copertina mi viene inoltrato quando la nave lasciò la vita di terra di terra e ci ha lasciato il comandante timone a dritta torniamo qui in studio abbiamo dato un piccolo assaggino del video Itri Itri 1911 1911 mio padre è nato nel 12 ecco se ci vuoi dare una pennellata era un periodo di fame non era certo economicamente per l'Italia un buon periodo l'Italia non era ancora formata Itri non era in provincia di Latina come è adesso ma era in provincia credo di addirittura fosse in un'altra regione credo in Abruzzo comunque ho voluto raccontare questo 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 fatto che è successo in quella cittadina in quell'anno perché un gruppo di Sardi è un tipico episodio di razzismo interregionale praticamente le imprese che avevano vinto l'appalto per la costruzione della ferrovia Roma-Napoli avevano bisogno di mano d'opera dalla Sardegna partirono in 400 da Olbia che allora si chiamava Terra Nova infatti la canzone comincia così e si stabilirono a Itri con le famiglie però sai il Sardo com'è è un po' introverso un po' musone un po' ropipalle certe volte un diffidente non ne parliamo ebbene e quindi furono presi di mira immediatamente ma già solo il fatto che arrivarono i Sardegnoli perché vennero chiamati così in maniera dispregiativa dispregiativa cominciarono i malumori cominciarono i malumori quando poi la camorra si presentò a casa di questi poveracci a chiedere il pizzo questi risposero picche non pizzo dicendo assoluto alla camorra non ne andiamo mentre tutti gli altri sganciarono una percentuale del loro salario quindi la camorra un po' la camorra un po' la popolazione diedero fuoco alle polveri e alla fine ne massacrarono undici uno andò disperso e questo fatto venne insabbiato venne insabbiato per tantissimi anni perché insomma era molto grave intervenne un prefetto ma non non se ne fece nulla eccetera poi furgando fra le scartofie dell'università di Sassari lo storico Antonio Budruni ha ricostruito tutta la vicenda aspetta io ho avuto questo libro e da qui ho tratto il brano che si chiama appunto omonimo I 3191 io ti ringrazio a nome di tutti i sardi perché tu hai portato alla luce un fatto molto storico molto concreto che mi tocca personalmente e niente il video com'è nato questo video non esiste una sola immagine fotografica di quel periodo di questi di questi sardi eccetera eccetera quindi io ho chiesto a Luciano Fele il pittore di riprodurre con la fantasia basandosi sui fatti concreti delle tele che poi sono state fatte a matita su carta che a me sono piaciute molto perché sono estremamente significative e quindi è nato il video i quotidiani mi hanno dato un certo spazio e ho avuto grosse soddisfazioni da questa da questo lavoro qui assolutamente me ne ha parlato anche Mario Guerrini nel suo osservatorio lo riproporrò credo il 25 il 25 di questo mese novembre mi sembra che sia un venerdì al teatro di Circus Donigala assieme alla Corale che mi accompagna sempre forse da più di 20 30 anni bellissimo e anche l'oro bellissimo gli arrangiamenti corali di Felice Cassinelli sono presenti questo è il questo è tuo te lo regalo grazie è una delle coppie fisiche grazie Gigi questo è veramente un capolavoro e poi ci sono giù altri altri nove brand volendolo acquistare Gigi ti scrivono direttamente sul tuo no 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 dai negozi virtuali da Amazon quindi su Amazon trovano tranquillamente Gigi Aquas ITRI 1911 ricordiamolo tutti è molto importante anche acquistare il cd fisico anche il supporto fisico perché una sera ve lo ascoltate tranquillamente nel vostro salotto di casa vi immergete e andate a guardare la storia che Gigi oggi ci ha regalato qui ma io Gigi ho un altro servizio e adesso lo mandiamo e tu mi dirai poi dopo io sono il cinghiale che canta nella notte fra sassi che vanno e banditi nascosti ma non fa niente il male io sono il cinghiale che canta di generali sempre disposti a svuotare l'arsenale ti rivedo leggermente a sinistra magari un po' fuori campo ed intanto la vita registra uno sparo con il cuore e le voci dei bitti in giro per gli Stati Uniti hai cantato di amori e delitti di linee e di bombe rifiuti e di tre bellissimo ecco è anche un bellissimo nome il canto del cinghiale questo è un singolo che è uscito poco tempo fa e che ho dedicato a Piero Marras Piero Marras fra me e Piero ci sono sei anni di differenza lui è un po' più grande di me però io lo seguo da sotto il palco in maniera quasi religiosa perché comunque sia è un personaggio estremamente importante per quello che ha fatto per quello che sta facendo per la musica per la musica in Sardegna e comunque sia se noi andiamo a guardare la biografia su Wikipedia capiamo il calibro il calibro della persona di cui stiamo parlando il canto del cinghiale è così perché perché a fine concerto Piero dà un saluto al pubblico come se lui fosse un cinghiale dice non sparatemi perché io sono il cinghiale che canta per voi eccetera eccetera per cui il titolo è così e poi è un brano che è una specie di collage fatto con i titoli e con delle frasi sue bellissime devo dire che per fare questo lavoro mi sono appoggiato moltissimo a Luis Fregapane che è un arrangiatore chitarrista poi eccellente ex chitarrista dei Nuovi Angeli lui abita in Sardegna uno studio e quindi abbiamo fatto il lavoro insieme è tutto qui benissimo grande Gigi veramente ecco se vuoi dare prima di chiudere questo collegamento con gli amici che ci stanno seguendo da casa ecco una pennellata su quello che puoi dire chiaramente se ci sono dei progetti oppure se attualmente stai facendo qualcosa lo puoi dire tranquillamente oppure chiaramente su quello che si può dire ecco perché poi sapete ogni artista ha i suoi segreti ha le sue chicche che rivela al momento opportuno quindi non tutto si può dire non tutto si può dire beh a parte questo 25 novembre al teatro di Sirgus Donigala dove si si farà questo concerto per contro la violenza sulle donne ah bene lì con la corale io dovrei eseguire un brano che ho scritto tanto tempo fa che si chiama La tua coscienza e che è un atto d'accusa contro i pedofili certo niente di peggio al mondo certo ci può essere che la violenza sessuale contro i bambini a tre anni certo ecco perché io posso non mi sento di dire che l'ergastolo non è sufficiente non è sufficiente non è sufficiente e e poi ci sarà una sorpresa a Natale però se mi inviti un'altra volta certo assolutamente ma poi Gigi tu quando vuoi collegarti anche da casa e fare dei flash degli interventi anche per esempio quando stiamo facendo disco a notte oppure anche piattaforma zoom noi entriamo e poi hai il microfono libero e dai tutti gli annunci che possiamo ritenere opportuni perché sai il canale sta incominciando ad essere seguito piano piano quindi può essere un'altra fascia di utenti che seguono intanto metterò tutti i sottotitoli sotto su questo video in modo che possono trovare facilmente con un link la tua pagina facebook possono trovare il canale youtube e anche questo evento che farai lì a Siurgus quindi signori vuoi dare un incoraggiamento ai giovani ogni chiusura con qualche artista dico sempre questo hai un messaggio per i giovani per l'arte chiaramente certo ma io vedo che i giovani tutto sommato non hanno tanto bisogno di essere spinti forse il messaggio sarebbe più nei confronti dei genitori e delle famiglie perché negare a un ragazzo o una ragazza o rifiutare ad esempio l'iscrizione a un conservatorio o a un istituto all'artistico per esempio e qui stiamo praticamente rovinando una persona perché si tu lo vuoi vedere medico lo vuoi vedere ingegnere chissà perché tutti lo vogliono vedere laureato però a produrre pomodori non ci va più nessuno ed è bene che ciascuno scelga così come ho fatto con mio figlio scelga la sua la sua strada che nessuno gli mette bastoni fra le ruote è un bellissimo messaggio concordo appieno con Gigi allora abbiamo qua l'alfa e l'omega l'inizio è l'ultimo è l'ultima fatica che hai fatto l'ultima fatica adesso no allora aria di fare album non ce n'è più non ce n'è più no ma andremo avanti andremo avanti con i singoli perfetto e con i video io ti ringrazio veramente tanto a te Gigi per questa partecipazione e questo canale considera casa tua bene il mio è una vetrina artistica è un salotto artistico dove chiunque chiaramente nei limiti della decenza artista può tranquillamente usufruire e è allo spazio aperto certo io ti ringrazio grazie a te Gigi ti do la mano grazie mille a presto e tutti quanti seguiamo il nostro canale rcm ciao a tutti ciao ciao a tutti 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 ciao a tutti